Allora, ciao a tutte ragazze e ragazzi e benvenuti in questo nuovo weekly vlog Perché sì, farò un weekly vlog Questa settimana vi porterò un pochettino con me in giro In giro, tra virgolette In realtà questa settimana l'unica cosa che ho da fare Che diciamo ho già, che già so sicuramente che farò Sono le extension Sono le extension alle ciglia, non vedo l'ora Perché le voglio fare da una vita Però diciamo che non ho mai avuto il coraggio nel farle Perché c'è chi dice che si rovigliano, c'è chi dice che li rinforza C'è chi dice che si è trovato bene, c'è chi dice che si è trovato male Allora, io le ho messe una volta, però mi misero i ciuffetti Cioè diciamo i ciuffetti, quelli la finti Che si azzeccano con la colla presi dal cinese E mi trovai malissimo perché mi davano fastidio Erano troppo lunghi Io porto gli occhiali, quindi devono avere una certa lunghezza Diciamo che erano messi un po' a cavolo Se così si può dire E quindi ovviamente quella non la posso chiamare esperienza Perché questa qui è tutta un'altra cosa Detto questo io non l'ho detto ma oggi è domenica Sono, non lo so, io ne ho perso le 4 o più o meno E io mi sono vestita perché voglio andare a fare un giro con Roberto Al centro commerciale Roberto ora non c'è perché è andato con mio padre a fare un servizio E ci stanno mettendo una vita Però vabbè, aspetterò Io nel frattempo mi sono preparata Con calma ho fatto le cose mie Da una parte sono contenta perché Roberto mi mette sempre ansia Quando dobbiamo uscire Tipo che faccio tardi Che ci metto una vita a truccarmi In realtà non ho fatto niente di che Perché dato che dobbiamo mettere la mascherina ovviamente Ho messo sì un po' di fondotinta, un po' di correttore Però veramente poco Perché comunque con la mascherina A parte che non si vede nulla A parte gli occhi e le sopracciglia E poi comunque Mi dà fastidio che il fondotinta si attacca sulla mascherina No E infatti mi sono truccata pochissimo Ho messo un po' di fondotinta, un po' di correttore E poi ho fatto le sopracciglia E ho messo un po' di liner, un po' di mascara E tra l'altro sono contentissima perché Allora io ho un problema con le mie ciglia Perché vabbè sono corte, sono brutte Fanno schifo infatti Per questo che la andrò a fare E infatti sono contentissima perché Non dovrò mettere più il mascara Perché a parte che una delle cose che odio mettere Sembrerà strano Ma è il mascara Cioè mi scoccia Perché io sto anche 10 minuti con le mie ciglia Ma non si alzano Quindi questa cosa mi Non mi motiva ovviamente Perché se Dopo 5 minuti di mascara Mi vedo le ciglia lunghe Allora dici ok Lo farò sempre Perché mi è dimotivata Ma se anche dopo 10 minuti di mascara Mi vedo sempre le ciglia Che fanno schifo e che non si alzano Non ti motivi Quindi una delle cose che voglio mettere è il mascara Perché comunque Alla fine a me non è che cambia tantissimo Ho leggero un po' squigatelle E vabbè Comunque Mi sono vestita Vi faccio vedere anche l'outfit Perché so che sicuramente mi interessa Allora mi sono messa Questo body di Stradivarius Che è questo modello tipo Questo scollo di pala americana E l'ho preso da Stradivarius L'ho messo il reggisino sotto ovviamente Poi ho messo questa bellissima cintura Che ho preso in un negozio low cost in realtà Infatti l'ho pagata soltanto 8 euro Però secondo me fa la sua figura C'è anche più piccolina Infatti la voglio prendere anche più piccola E poi ho messo questi pantaloni neri Perché non avevo voglia di prendere i peli Con lo spoiler Quindi ho messo un pantalone lungo Anche se fa caldo E questo pantalone nero Che in realtà ho preso da Berska Tipo due anni fa Infatti è molto vecchio Però mi ci trovo molto molto bene E vabbè le scarpe Ancora i calzini Perché non le trovo Cioè raga non trovo le scarpe Non so dove stanno E poi come borsa ho messo quella lì E poi andrò a mettere una giacca sopra Quindi nulla Io aspetto Roberto che viene Che se si muove Perché cioè raga Non so che fine abbia fatto E poi Forse decidiamo ad andare Ah e poi ho messo Un bracciale Questo qui Poi degli anelli L'ho messo solo su questa mano Ho messo questo qui Sì che mi ha regalato Roberto Al compiano E questo qua il cuore E poi Questa collana Non so se si vede E questi orecchini Niente Vorrei prendere Allora intanto Mi metto il scarpe Allora devo prendere Vorrei prendere la cintura Questa qui In modello più piccolino Vorrei prendere Un altro Io che poi Con il body Ne ero messo il reggisino Bianco Cioè sono un po' stupida Vabbè Comunque Tanto la giacca sopra Quindi non mi frega E devo prendere La crema depilatore Perché mi sono scocciata Di farmi con la vetta Mi sto uccidendo le gambe E poi Un'altra cintura di questa Tu prendi gli schetti struccanti Voglio prendere Un altro body di questo Un altro colore Vabbè Non me ne ricorderò Tutti Devo mettere Questa mascherina Di M Diciamo che si abbina Molto come sto vestito Non me ne frega niente A mettere le mascherine Sì ti ho detto Quelle ragazze Vedo che Si compro le mascherine firmate Mascherine Firmate Tipo che ne so Josedin Startup Tutte queste marche Ma a me non mi interessa Proprio niente Cioè a me questa va Proprio super super bene 60 centesimi È la vita Ma non è manco Per una questione di soldi Cioè Non è quello Ok Perché la mascherina O 6 euro O 50 centesimi Cioè ci sta una differenza Di prezzo Ma Uno se se la vuole comprare Se la compra Ma è proprio una questione Di Cioè Perché devo spendere 7 euro Per una mascherina Cioè io tanto che Mi comprai quella La tutta nera Che la paga i 2 euro Ma non la metto Perché a parte Che è super scomoda Perché è larga Mi scende Quindi 2 euro buttati Questa qui invece È super comoda Perché mi va bene La potete regolare Perché c'è il ferretto Quindi Cioè è super super comoda E mi va Super bene Sì Non sarà il massimo Dell'estetica Non sarà il massimo Del colore Però A me non me ne frega Proprio niente Sinceramente Io spero solo Che tutto questo Finisca più presto E Tanto Allora Diciamo che L'attesa normalità Ormai è un po' ritornata Perché prima Vulcano Cioè Prima al centro commerciale Non si poteva andare A fare una passeggiata Non si poteva andare Tante persone Non si potevano vedere Con i propri fidanzati Quindi La tanta attesa normalità È tornata Però sicuramente Uccire con le maschere Non è una bella cosa Però si fa Si deve E quindi si sopporta La mamma che canta Dolce Amaro Buongiorno Oggi è martedì Primo giugno Sono l'una E mi sono scelta da poco Lo sono Faccio schifo Alla fine Ieri poi Sono andata Al centro commerciale Mi sono ovviamente Dimenticata Di comprare Il fondo di vita Cioè La cosa che più Mi serviva Me la sono dimenticata Però ho comprato La crema depilatoria Che in realtà Ora ve la faccio vedere Poi ho preso Delle salviettine Le cose che mi servivano Diciamo Per la borsa Quindi salviettine Che non avevo Erano finite Pazzoletti Però io me le sono prese Un pacco Poi le ha messo Roberto Le ha messi Roberto in macchina E poi mi sono preso Un po' di ciabattini Che ho queste qua Che sono queste Che ho Al presidio Ora che faccio vedere Che sono veramente Molte Allora La crema Oddio Aspettate È questa qui Questa Ed è di questa Di questa marca Allora sinceramente Io non l'ho mai utilizzata Quindi Non vi so dire Se è buona Se non è buona Ieri facendo una diretta Con voi Ve la feci vedere Ci stavano Tipo di pareri Contrastanti Diceva che era buona Che se l'ha trovata male Comunque È una crema gel Ed è con estratti Di brutti rossi E poi Questa spatolina All'interno Per rimuovere La crema Una volta Passati i minuti E Non lo so Raga L'ho pagata 4 euro E qualcosa Quindi vabbè Sui 5 euro Più o meno E allora So che queste Creme Sono chimiche Però raga Io con la lametta Mi sto uccidendo le gambe Cioè Ho tutte le gambe Piene di graffi Mi esce sempre il sangue Non lo so In realtà Io ho anche questa Che Se l'ha da la metta La Questa che marca è? La Venus Però non c'erano I ricambi sopra Perché quello là Che avevo io Si è rotto Quindi Perché questa pure Mi trovo bene Non mi taglio Però Vabbè Invece Queste qui Sono le sabattine Cioè Guardate come sono belle L'ho pagata I soltanto 5 euro E sono bellissime Perché poi Sono tipo Hanno Tipo Questo Tipo finto Tipo questo Materiale finto E poi hanno Questa corticella Bianca e rossa Ma comunque Cioè Io le amo Sono molto belle 5 euro Poi c'erano Tutti i colori C'era fucsia Rosso Tutti i colori Belli Molto carine Mi sono tornato io Un pochettino Insomma E Sto Sto weekend Questa settimana Ascendendo Ho messo già la mascherina Però in realtà Cioè La posso Cosa Vero Si Sì Però in realtà La posso anche togliere Perché È una finestra Nel mio giardino Quindi va bene Un po' incensato Però Meglio tenere la mascherina Perché Sto sempre Trucco E non mi piaccia Lì sono Non è mia mamma Perché stiamo andando a vedere Tipo delle pantofle Per mia nonna In realtà Non lo so se mi sentite Perché con la mascherina Secondo me Non è che si capisce molto Quando parlate Non si vede la bocca Però Vabbè Io mi sono vestita Tutta nera C'è un momento colorato Molto Questo è il mio mood Io Come mi vesto E come sto con il mio mood Oggi sono nera E Mi sono vestita Tutta nera Ciao qua Sono in macchina Io non siedo mai Allora Sono in macchina E sto aspettando Mia mamma Che Che arriva Mio fratello E mia nonna Sono scese Sto aspettando in macchina E Comunque Ho la mascherina Sempre per Fattila sola Perché la mascherina La mascherina Perché sono senza Perucco Faccio ghiare E quindi con la mascherina È tutto molto più Possibile Cioè E poi Allora Fa caldo Questo ma ci viene Addosso Sicuro Fa caldo Con la mascherina E si muore Di caldo Però Io mi sono abituata Cioè Sembrerà una Cagata Però raga Mi abituate Proprio Quando la mettete Quando portate una cosa Spesso Cioè Vi ci abituate Cioè Assurdo Ma è così Ovviamente Si Cioè Vi sentite tipo morire Perché poi Con il caldo Ancora peggio Però Mi sono abituata Ok raga Allora Sono appena tornata E Sono andata Con mia nonna Appunto A vedere queste Scarpe Che vi dicevo In realtà Non ho trovato Non ho trovato Nulla di che E io mi sono fermata Dal cinese Perché sto da Un paio di giorni Che sto cercando Il Pop socket Dietro al telefono Pezzo si pronuncia Così Comunque Quel cosino Che va Praticamente Sulla cover E Mantiene il telefono Comunque Molto comodo Mi piace E poi È bello anche esteticamente E ne ho presi due Allora uno L'ho già messo sul telefono Ve lo faccio vedere dopo L'ho già messo sulla cover E un altro Invece È questo qui In realtà Non c'erano proprio Delle fantasie Cioè Bellissime Assurde Però ho preso Quelle là Più carine E alla fine Costano soltanto Un euro Quindi ne ho presi due Per metterli su due cover Diverse E E niente Ora ve li faccio Fantasia Tipo Questi fiori Sono Dei fiorellini E l'ho pensata Su La cover Questa qui rosa Che ci sta Bene Secondo me Sopra questa Perché Sono Diciamo Non gli stessi colori Però si avvicina Su questa acqua rossa Ho messo questo qui Che è tipo Leopardato Non è proprio Cioè Non è che si abbina Proprio benissimo Però Come potete vedere Cioè Era il più carino Erano i due Più carini E quindi Ho preso Proprio quelli là Che Diciamo Erano più carini Perché stavano Tipo con I disegni sopra I cartoni animati Quindi Ho detto Vabbè Lasciamo stare E ovviamente Ho lasciato La mela Che si vede Perché Non la volevo coprire E niente Comunque sono Cioè Troppo comodi Anche tipo Per registrare Vedete Sono super comodi Ora vi metto Qui Oddio Così Appunto mi vedete Sto per mettere La crema idratante Scusate L'armaggio dietro M'ho posato la giacca E l'ho lasciata aperta E come crema idratante Io sto utilizzando Questa qui Della Aven Aven Come si pronuncia Boh vabbè Comunque sto utilizzando Questa che tra l'altro È anche quasi finita Infatti per metterla La sera è un macello La vorrei Tipo pulire Ecco Oh Non è possibile Raga Mi devo mettere La crema così Onesti Ok Eccomi qui Allora Buongiorno A tutti Oggi È martedì 2 giugno E sono Più o meno Luna Io sto 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 Andando a mangiare Fuori con Roberto Mi sono anche vestita Dopo vi faccio vedere L'outfit Sto aspettando a lui Perché lui è tornato Da poco da lavoro Quindi lo sto aspettando Perché si sta Facendo la torcia Sto aspettando Sto aspettando Sto aspettando Noncino di Noncino di Berska Di questo colore Di questo colore molto 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 Bello Poi sotto Ho messo I stivaletti Questi qui I camper I camper Come si chiamano E poi Ho messo La giacca Questa qui Sempre viola Leggermente Più chiaro Quale alla gonna E niente Raga Questo è l'outfit Mi piace Un sacco Sto fresca Sto comoda Perché ho le scarpe basse Ho gli stivaletti Quindi sto Comoda E sono molto Molto contenta Perché mi piace Un sacco Un sacco Un sacco Un sacco La borsa Non la metto Perché Comunque Devo fare Devo stare lì Devo fare I giri Per Per là Quindi Sinceramente Portare una borsa Cioè È un po' inutile Perché Comunque Alla fine Non mi serve Cioè Alla fine Dentro ci tengo Sì cose Salvettine Fazzorettini Cosa che abbiamo Anche nella macchina Di Roberto Quindi Mal che vada Li prendiamo Dalla macchina E ce li portiamo Dietro Quindi Non ho nessuna Diciamo Necessità Di portarla Nonché Scomodità Perché Girare per tutto Napoli A piedi Con una borsa Pesante Non è proprio L'ideale Quindi Ho deciso Di non portarla Di evitare La cosa Totalmente E Niente Comunque Mi piacciono Già che i miei capelli Li ho pettinati Anche Cioè Ogni giorno Che passa Si fanno sempre Più belli Cioè Quando Li faccio Così Cioè Tipo ricci Ogni giorno Che passa Si fanno sempre Più belli Basta che gli date Veramente Una pettinata Leggera Per aprirli Ci mettete un po' Di crema Per i capelli Per farli stendere Non farli elettrizzare Sono Favolosi Favolosi Come se l'avessi fatta La parrucchiera Io sto ancora aspettando Di solito Si vede che tipo Lui aspetta lei Non è così Io aspetto Lui Sempre Perché io non sono Per niente Ritardo d'aria Cioè Sono sempre Puntuale Sempre Cioè Deve proprio essere Una cosa Ma sono sempre Puntuale Sempre 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 Massimo ritardo Di quel Cinque minuti Ma Non è mai successo Tipo Un'ora Un'ora e mezza No Non ce la faccio Sono proprio puntuale Lui Non è Ritardo d'aria Perché Che comunque Ha finito Mo' di lavorare Quindi Non puoi farne Una colpa E devo aspettarla Allora Raga Buongiorno Scusate Ieri Mi sono fatta Sentire Poco In realtà Non ricordo Se Non c'è proprio Non mi ricordo Se Io sono andato O no Però se non lo sbaglio Sì Però Non è restato nulla Perché Sono stata Tutta la giornata In giro Avanti Sono uscita Da casa Alle 11 Sono tornata Alle 8 Perché ho pranzato A casa Di mia nonna Poi siamo andati In giro A fare Varie cose Che ora vi racconterò E quindi Diciamo che Mi sono fatta Sentire poco Allora Penso che Questo sarà L'ultimo giorno Di Wiggly Perché Non lo voglio far Diventare Troppo Lungo E poi Ve lo voglio subito Caricare Fine settimana Perché poi Settimana prossima Io voglio girare LOL LOL Di Shane E Altre cosettine Perché ho comprato Anche altre Altri vestiti In vari negozi Diciamo Per il mio paesetto Quindi senza marca Ho comprato un po' Da Berska Ho comprato un po' Da Stradivarius Quindi Voglio farvi LOL Al più presto Anche Perché Almeno Se ve le faccio vedere Le potete anche trovare Ma se le faccio vedere Tra due mesi Non le trovate più Quindi Sì Ve lo carico Fini settimana E Così Settimana Prossa In giro LOL E be lo carico Vagiolini All'insalata Con le patate Che io amo Abbiamo mangiato Già ieri sera Però senza le patate Ci ho fatto aggiungere Le patate Perché sono più buone Con le patate E qui invece Per mio fratello Lenticchie Alle tre Devo andare Anche a fare L'extension Sono molto contenta Non vedo l'ora Perché Sono molto Cioè Non so in realtà Se si sentono Se sono scomode Se sono pesanti Se non si sentono Proprio Quindi Allora Ok raga Allora eccomi qui Io mi sono truccata Per modo di dire Diciamo Perché a parte Che dovrò stare Con la mascherina Quindi Va bene E mi sono fatta Un po' Le sopracciglia Giusto per Essere presentabile E ovviamente Non ho potuto mettere Mascara Né niente Perché Non posso Dato che Appunto Dovrò fare L'extension Quindi Dovrò andare Senza nulla Sulle ciglia Ora Ho messo Ho messo No Ho la crema in mano Perché lo devo andare A mettere sulle gambe E niente Ok raga Sono uscita Non so se mi vedete Benissimo In realtà Perché c'è il sole Quindi non vi vedo Comunque sto tornando a casa Sto tornando a piedi Perché Mi hanno accompagnato Con la macchina Però Alla fine Sono tornata A piedi Diciamo È vicino Questa ragazza Da casa mia Sono ciclo minuti A piedi Quindi sto tornando A casa Comunque Le ho fatte Sono stata Più o meno Un'oretta e mezza Non ho visto nemmeno l'ora Comunque Prima di iniziare Che l'ho chiesto Quanto Ci avrebbe messo Mi ha detto Più o meno Un'oretta e mezza Quindi penso Saranno verso Le quattro e mezza Perché Sono andata alle tre Quindi Saranno le quattro e mezza Comunque Le ho fatte Allora Diciamo che ci sono stati Un po' di problemi Per quanto riguarda Gli occhiali Perché io Ho il vizio Aspettate Ho il vizio Di Oddio mi sto Distruggendo la maglia Aspettate Ho il vizio Di schiacciarmi gli occhiali Troppo sotto Cioè ho sempre avuto Questa abitudine Fin da piccola Che io non è che metto Gli occhiali un po' più scesi No Le attacco sempre Visino agli occhi Ho sempre avuto Questa abitudine Non mi trovo E E quindi diciamo Abbiamo avuto Questo piccolo problema Perché Praticamente Le hoci Essendo lunghe Mi sbattivano Un termine un po' Non italiano Vicino all'occhio Cioè No vicino all'occhio Vicino al vetro Gli occhiali E quindi Mi facevano Mi facevano Cioè mi davano fastidio Perché Giustamente Andavo a finire Il vetro Gli occhiali Mi davano fatta Sto dicendo Non fateci caso La strada che sto facendo È semplicemente per Diciamo così Per Così dice Accorciare Alla mia faccia Però Mi ero messo un po' Di corrittore Ovviamente È tolto Perché mi ha dovuto Mettere tipo Delle cose in faccia Quindi Cioè vabbè Ho delle vecchie assurde Non so perché Non le avevo prima Vabbè Questo è Il risultato Sono molto contenta Perché c'è Tipo raga Io non mi toccherò più Non mi toccherò più Sono sempre tipo Struccata Mi sto proprio Bella Tranquilla Con queste Non mi do Mettere maschera Non mi do Mettere liner Ombretti Niente di niente Sono truccata già Sono troppo felice Allora diciamo che Allora è un po' scocciante Dal punto Aspetta che vi appoggio qui Allora È un po' scocciante Dal punto di vista Tipo perché Dovete stare là Due ore Con gli occhi chiusi Non vi potete muovere Non potete fare niente Quindi La cosa in sé Che mi ha dato più fastidio È stare con gli occhi chiusi Perché non vedete Cioè non vedete nulla Tutti stanno con gli occhi chiusi Per due ore Ed è un po' Stressante Nonostante sia stata La prima volta Io questa ragazza Comunque la conoscevo di vista Perché ve l'ho detto Abita Vicino a me Dieci minuti La conoscevo di vista E veramente È una bravissima ragazza Cioè Sono vese a chiacchierare Quindi diciamo Che le due ore Sono passate velocemente Però ve l'ho detto La cosa più stressante È stare con gli occhi chiusi Cioè voi non vedete Praticamente niente Poi comunque A un certo punto Mi sono pure addormentate Le gambe Sentivo tipo Tutte le gambe addormentate Mi stavo sentendo male E vabbè Comunque Ora sono molto contenta Perché comunque Il risultato vi piace tantissimo Sono contentissima Anche perché Non dovrò più truccarmi Sapete che Io adoro truccarmi Però Con il giorno E lo smatti Sinceramente Quindi anche per l'estate Uno va al mare Si spera E magari si deve Va al mare Non deve A parte che va bene Al mare Non mi sono mai truccata Non ho mai messo Nemmeno un filo di correttore Perché non mi interessa Però Almeno si è presentabile Diciamo così Sembra che Si è truccati In realtà non lo sono Cioè in realtà Non lo sono Veramente ora Perché il correttore Che ho messo È andato via E ho solo fatto Le sopracciglia Quindi Non ho veramente Nulla di nulla Di nulla A parte le session Quindi sono veramente Una comodità Se appunto Come me Non avete sbatti Di truccarvi E quant'altro Poi Vi aggiorno Sulla mia esperienza Perché questa è la prima volta Che le metto Ci sono comunque Pareri Un po' Contrastanti C'è chi dice che Le dominano Le ciglia naturali C'è chi dice che Le rinforze Allora ragazzi Io volevo Chiudere qui il vlog Perché Abbiamo Ciacciato abbastanza Non so sinceramente Quanto è venuto lungo Però penso Normale Comunque Non troppo Detto questo Io vi mando Un bacio Vi ricordo Come sempre Di iscrivervi al canale Se ancora non lo fate Mi raccomando Iscrivetevi Perché vi vedo Poi è gratis Quindi Fatelo E tra l'altro Ho visto Che siamo arrivati A 7000 iscritti Quindi sono contentissima Vi ringrazio Siete una famiglia Per me Siete come delle amiche Come degli amici A distanza Sì Vi voglio Veramente Tanto tanto bene Non Non mi aspettavo Sinceramente Di raggiungere Questi obiettivi In così In così poco tempo Tra virgolette Perché comunque Non è una vita Che faccio Vedi su youtube Quindi avere già 7000 persone Che sono iscritte Al mio canale 7000 persone Che mi sostengono Per me è già Una vittoria È già una crescita Quindi sono contentissima Ed è ovviamente Anche grazie a voi Che appunto Mi supportate Vi iscrivete Tutto quanto Per altre cose Se volete chiacchierare Con me in direct Perché rispondo sempre A tutti Vi ricordo di seguirmi Su instagram Vi lascio sia il nome E qui scritto E sia C'è sempre il link Sotto nell'info box Diretto Cliccate E andate sul mio profilo E mi mandate La dichiesta Il profilo privato Però accetto Tranquillamente tutti Metto il profilo privato Per evitare profili falsi Perché ci sono Vari profili falsi Che mi rompono La minunio E quindi Non ho voglia Di sinceramente Ricevere vari messaggi Quindi ho messo Il profilo privato Quindi state tranquille Solo per questo motivo Poi accetto tutte Un bacio E niente Mettete il like Condividete E lasciatevi un commentino Che mi fa sempre Sper piacere Ci vediamo Al prossimo video Ciao